Ciao a tutti, lui è Nino, detto Popcorn, detto Popcorn simpaticamente perché ci siamo conosciuti quando all'epoca lavorava presso il Cinema Apollo, quando Apollo era cinema, diciamo, generico. Poi finì terminato il suo rapporto lavorativo con il Cinema Apollo, fu assunto al lux, faceva la maschera mentre Apollo si occupava del bar, da qui nasce Nino Popcorn, perché si occupava del bar e quindi c'era gli ottimi Popcorn. Successivamente fu assunto al lux, periodo di crisi, cambio di società successivamente è rimasto di nuovo senza lavoro ed è sbarcato in un altro cinema, il Cinema Capital da lì ovviamente ci siamo persi di vista. Cinema Capital che ha avuto la successiva disavventura di chiudere e quindi è rimasto nuovamente senza lavoro. Da lì ha lavorato occasionalmente, così a chiamata, con qualche impresa edile che ha avuto la sfortuna anch'essa di chiudere e quindi il signor Nino, detto Popcorn, è rimasto, diciamo, senza lavoro e la casa dove abitava e pagava l'affitto l'ha dovuta lasciare per uno sfratto per morosità. Da allora Nino si trova in una situazione di forte disagio e ho scoperto che da circa, l'ho scoperto qualche mese fa, e adesso sono passati ben otto mesi e il signor Nino dorme in macchina sostanzialmente. Quindi prima si metteva davanti alla stazione e si sciacquava la faccia, si utilizza la barra, eccetera. Ora pare che sia qui nei pressi della mia farina. Dico, vuoi dire tu qualcosa? Come farei con questo freddo? Fra pochi giorni l'abbassamento delle temperature, che cosa hai in macchina? Non so, l'ho scoperto, l'ho scoperto, l'ho scoperto. Ma senti, dico, ma che fai? Attualmente c'è la tenditura di una signora che fa l'accompagni? Sì. E che fai? La mattina l'accompagni? No, no, sono te, la polizia, dalle sei in poi. Dalle sei in poi devi accompagnare questa signora da un luogo all'altro della città e poi la devi riportare a casa, immagino. Sì. Quindi una sorta di taxi, diciamo. Sì. E questa signora che ti dà qualcosa, ti paga? Mi dà 80 più di 10 euro in più che mi dà. Ma 80 di chi è qua? Ogni quanto? Un mese. Ah, 80 euro al mese. Bene, quindi come vedete. E più, mi ricorda 10 euro. 10 euro, va bene. Quindi 90 euro al mese. Quindi come vedete la situazione è drammatica. E la signora, dico, la signora di cui parli è la proprietaria, diciamo, della macchina. C'è questa macchina di cui parli? Sì, mi dico. Ah, ecco. E quindi che fai questa macchina? Ti serve per dormire? Soltanto per dormire? Sì. Quindi posteggi la macchina intorno. E cosa chiediamo al sindaco, all'assessore alle politiche sociali? Un albergo? No. Una suite imperiale? Che vuoi? Una casa. Una casetta? Quanto ti bastano? Una casa piccola. Una stanza cucina e un banno. Basta al salone niente? No. Stanza cucina e banno. Per me stesso. Per te stesso, da solo. Se poi trovi un lavoro, eh, avrai un superiore, magari io la ricaccio. Sì. Magari vediamo, facciamo un appello se qualche imprenditore ci sta ascoltando e si vuole prendere qualche... Perché lui ha esperienze di giardiniere? Tutte cose. Tutte cose. Guardiania, maschera... Polizia. Ah, pulizia. Puliva la sala, puliva le sale, il cinema. Dico, beh, un brazio mare, diciamo, sotto questo punto di vista. E quindi se qualcuno ci sta ascoltando.